Grazie a tutti. La lettura nella libreria Voce di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, a pochi metri dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Anche questa settimana vogliamo partire con un omaggio al nostro caro padre Marciano Morra. Lo facciamo con uno dei suoi libri, una serie di libri dedicati al santo di Pietrelcina. Padre Pio, esperienze mistiche e carità operosa. Vado a leggere in quarta di copertina una breve recensione fatta da Don Francesco Armenti, un altro amico di Padre Pio TV, che scrive Nel suo libro Padre Marciano mette in luce il carattere ordinario della vita di questo figlio di San Francesco, si riferisce naturalmente a Padre Pio. Una quotidianità e semplicità che ha tratto milioni di persone. Un fascino spirituale esercitato ancora oggi dopo la sua morte e la sua canonizzazione. Il lavoro di Padre Marciano ha anche il pregio di aver approfondito temi poco noti della vera spiritualità di Padre Pio, ormai offuscata dal vortice dell'interesse mediatico che mira al miracolismo, al sensazionale e alla polemica. Lo stile incisivo e immediato fa del libro un dialogo con il mondo e l'uomo di oggi, un libro che avvicina anche i lontani alla fede. Questo è quello che scrive Don Francesco Armenti, ma vi leggo una parte nella presentazione che scrive Padre Marciano e che comunque ci riporta al suo modo gioviale, di perfetta letizia che utilizzava anche nell'approcciarsi alle persone. Scrive Caro amico, sono convinto che vuoi sapere se sono soddisfatto del lavoro che presento e se vale la pena di leggerlo. Ti dico subito, senza mezzi termini, che è un bel libro, corredato da molte citazioni, esposto organicamente, in uno stile spigliato e chiaro. Soddisfatto? Del resto, al mio paese vi è un proverbio che dice Non domandare all'acquaiolo se l'acqua è fresca. Battute a parte, debbo confidarti che ho un solo rammarico, non essere riuscito a scrivere tutto quello che mi ero prefisso. Ciò mi spinge a mettermi subito all'opera per la sesura del terzo volume, che tratterà delle virtù vissute dal Padre in modo eroico. Inoltre, per quanto mi sarà possibile, cercherò di chiarire alcuni incomprensibili provvedimenti delle autorità ecclesiastiche e il comportamento di Padre Pio a tal riguardo. Egli infatti diceva, dolce è la mano della Chiesa anche quando ci percuote, perché è la mano della madre. Scriveva queste parole Padre Marciano l'11 febbraio del 2005, in occasione della festività della Madonna di Lourdes. E noi con queste tue parole, Padre Marciano, oggi ti vogliamo ricordare e sono certa che continueremo a farlo in questi appuntamenti dedicati ai libri. Padre Pio, esperienze mistiche e carità operosa. Padre Marciano Morra, edizioni Casa Sollievo della Sofferenza, opera di Padre Pio da Petrelcina. Lui è uno psicologo, uno psicoterapeuta, si chiama Svaldo Poli e ha scritto questo libro edito dalla San Paolo. Mamme che amano troppo per non crescere piccoli tiranni e figli bamboccioni. Ecco, tanti gli interrogativi ai quali l'autore risponde in questo libro, da sempre. Osvaldo Poli si occupa della formazione dei genitori della coppia e collabora con diversi gruppi, istituzioni e riviste. E attraverso un'intensa attività fatta di incontri formativi, conferenze e consulenze, intende promuovere e sostenere la capacità educativa dei genitori. Perché esistono mamme e genitori che amano in modo sbagliato, scrive nell'introduzione, senza tener conto della misura, del limite che ogni amore autentico impone. L'errore educativo non può mai essere generato da un eccesso di amore. Il troppo ne rappresenta un limite, un'imperfezione. L'amore infatti possiede un suo equilibrio, una sua perfezione, conformemente alle virtù che lo caratterizzano. Le quattro virtù cardinali, infatti, rappresentano altrettanti criteri di verifica dell'autenticità dell'amore stesso. E qui elenca quali sono appunto queste virtù che devono essere alla base del rapporto educativo. Infatti, non ci può essere amore senza prudenza, l'amore non può essere autentico senza giustizia. E poi ancora, è importante appunto anche la fortezza, ma è necessaria anche la più negletta delle virtù, la temperanza. E poi, amare troppo il figlio nei compiti a casa, ad esempio, non realizza il suo bene, perché ci vuole misura. Amare che cosa significa? Significa aiutare troppo il figlio quando fa i compiti in casa. E se gli stai spiegando per la decima volta l'odissea e lui sporge la testa per non perdere i cartoni animati, che sta guardando il fratellino, è evidente che non si può procedere oltre. Essere sempre disponibile ad ogni richiesta di attenzione, anche quando ti chiama per niente, senza mai dire, aspetta, in questo momento non posso, non produce figli migliori né una relazione più equilibrata. L'amore esclude dunque il troppo. Nei comportamenti che si vogliono, ispirati all'amore, l'eccesso è la spia di un limite, di una debolezza affettiva che va indagata per recuperare quel senso di misura che garantisce l'autenticità del voler bene. Non esistono mamme che amano troppo. Ecco qui il titolo del libro. E se si ritenessero tali, sarebbe opportuno si interrogassero sulle motivazioni che le spingono ad essere troppo, troppo dedicate, troppo presenti, troppo annullate, recuperando all'amore quel senso della misura che avvalora la sua autenticità. Anche il proprio modo di amare può essere guarito da paure, debolezze psicologiche che non lo rendono adatto a realizzare ciò che sta più a cuore ad ogni genitore. Crescere bene i figli, forti e liberi. E qui poi ci sono una serie di capitoli molto, molto interessanti. Si parla anche del, in questo momento proprio la parola virus, la fa da padrona, del virus delle mamme che amano troppo. E poi anche le mamme sull'orlo di una crisi di nervi. Ma ci sono anche, l'autore in questo libro dà anche delle vie di uscita, delle soluzioni, quattro condizioni per guarire. Vi consiglio davvero di cuore questo libro, firmato da Osvaldo Poli, edito dalla San Paolo. Mamme che amano troppo, per non crescere piccoli tiranni e figli bamboccioni. 800 chilometri per ritrovarmi. 800 chilometri è la distanza che intercorre tra un paese della Francia, dove partono i pellegrini per andare a Santiago di Compostela, e lo stesso santuario di Santiago. Quindi 800 chilometri, un cammino importante che tanti percorrono, e che ha percorso anche l'autore di questo libro, che qui racconta il suo cammino, il suo ritrovare se stesso attraverso il cammino di Santiago di Compostela. Emanuele Masina scrive questo libro, Edizioni Messaggero di Padova, 800 chilometri per ritrovarmi. La prefazione è del Vescovo di Brescia, Monsignor Luciano Monari. Che cosa succede nella vita di questo ragazzo, che ascoltava musica metal, ha fatto uso di droga, di alcol, e Ferragosto di qualche anno fa è sulla spiaggia, ascolta una musica nelle orecchie, agli auricolari, e decide di fare il cammino di Santiago, non sapendo neanche che cosa fosse. Io vado direttamente alla conclusione, perché poi la storia è da leggere, perché è una testimonianza molto forte. Il mio cammino è finito con tanta stanchezza fisica, un abbraccio alla statua di San Giacomo. Affronto le sfide, dopo che nella mia adolescenza mi sono tuffato in acque sporche, dove il fondo non si vedeva mai, dopo 29 giorni di cammino, ho imparato ad ascoltare, specialmente ad ascoltarmi dentro. Affronto le sfide della vita con un alleato invisibile, ma sempre presente lungo la strada, che mi dona la forza, irradiando una luce che si riflette dai miei occhi, illuminando tutto il creato e tutte le sue creature. Adesso vivo la vita con semplicità. Mi affido alla divina provvidenza per fare le scelte importanti. Ho abbandonato il superfluo dei miei averi. Con l'aiuto del Signore affronto tutto a testa alta, per riuscire a realizzare il capolavoro che questa vita donatami il giorno in cui sono nato. Non abbiate paura di farvi carico delle croci quotidiane. Ricordiamoci sempre che se non fossimo in grado di trasportarle, non ci verrebbero date sulle nostre spalle. Il Signore è la mia forza, la nostra forza. Il cammino della vita continua. Raccogliamo il nostro coraggio e partiamo per questo bellissimo viaggio fatto di amore e di sorrisi. Buon cammino anche a te. E poi una dedica a tutti i pellegrini in cerca di un senso e dedico questo pensiero nato dopo il mio cammino verso Santiago. Da queste semplici parole è nato tutto il mio libro che possano toccarti il cuore nei giorni bui. E c'è una bellissima poesia intitolata Il Pellegrino che vi consiglio di leggere. 800 chilometri per ritrovarmi, edizioni Messaggero di Padova, la prefazione appunto è del Vescovo di Brescia, Monsignor Monari, la firma è di Emanuele Masina, sua è anche questa bellissima storia. Come sempre vogliamo concludere questo appuntamento con un libro di Bruno Ferrero, questa volta intitolato La Lodola e le tartarughe, sempre per la collana Piccole storie per l'anima, edito dalla LDC. Bruno Ferrero è veramente un maestro nello scrivere queste storie che hanno sempre un fondo di verità, una morale da accogliere. La storia si intitola La Sicurezza. Quattro giovani amici avevano deciso di passare un pomeriggio facendo una gita in barca. Si erano allontanati molto dalla riva quando il tempo cambiò. Il cielo si annuvolò e scoppiò una bufera. Ondate sempre più violente presero a sballottare la barca come un fuscello. Lo scafo cominciò a riempirsi d'acqua e tre giovani misero mano a secchi e recipienti per gettare l'acqua fuori bordo. Il quarto giovane invece buttava l'acqua dentro la barca, quasi volesse aiutare le onde. Cosa fai? Chiesero gli altri alibiti. Faccio quello che mi ha insegnato mia madre, cioè stai sempre dalla parte del più forte. Per questo credo in Dio, per essere sicuro di essere sempre dalla parte del più forte. Bellissime queste parole di Bruno Ferrero. Con queste parole, con questo bellissimo messaggio vi vogliamo lasciare. Appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo il titolo del libro di Bruno Ferrero, La Lodola e le Tartarughe LDC. Se volete rivedere questa puntata e anche le altre già trasmesse su Padre Pio TV, andate sul nostro canale YouTube. È qui appunto per rivedere questa e le altre puntate. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata. La Lodola e le Tartarughe LDC. 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 La Lodola e le Tartarughe LDC.